L'Asala mi ha comunicato di nuove casi di positività al covid-19 riscontrati nella nostra città. Nel contempo si sono verificate anche due guaregioni, lo fa sapere il sindaco Adamo Coppola attraverso il report di ieri sera. La situazione attuale vede quindi 69 positivi e 199 guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia. Anche il comune di Capaccio Pestum registra altri 5 contagi da covid-19 portando l'attuale numero di persone positive a 165. Contagi si registrano anche in altre località cilentane, insomma se la curva dovesse continuare il trend di risalita c'è la probabilità che si arrivi alla chiusura di tutte le attività con la sola eccezione per quelle di beni di prima necessità. Domani la decisione se la campagna come altre regioni d'Italia diventerà rossa. La curva epidemiologica dei contagi in questi ultimi giorni sta rapidamente risalendo, soprattutto in alcune zone e ciò sarebbe dovuto, secondo gli esperti, nella diffusione delle varianti inglese e brasiliana. Le suddette varianti hanno come caratteristica un indice di contagiosità più rapido ma anche una più elevata carica virale. Insomma ci si contagia prima e si contagiano più persone. La scadenza dell'attuale decreto in vigore viene a cadere il prossimo venerdì 5 marzo. Il rischio è che a partire dal successivo lunedì 8 marzo la regione potrebbe vedere il passaggio alla fascia di colore rosso. Altro motivo di preoccupazione è dovuto alla situazione del sistema sanitario che sta arrivando al collasso. Le terapie intensive sono quasi tutte sature nel napoletano ma anche a Caserta e in provincia di Salerno.